Torna ad attualità il tema dei crocifissi nei luoghi istituzionali, che in passato a livello nazionale ha suscitato polemiche e in qualche caso reazioni fuori dall'ordinario. Il consigliere comunale della Lega Oscar Aiello ha presentato una mozione per chiedere che il civico consesso cittadino si esprima sulla possibilità di installare il crocifisso nell'aula consigliare. Trattandosi di una mozione, la proposta dovrà essere votata in aula e poi si procederà in base alla decisione della consulta. In passato non sono mancate le discussioni tra chi sostiene la laicità degli ambienti istituzionali e chi invece vede nel crocifisso un simbolo legato alla tradizione italiana. Alcuni anni fa, dopo un'aspra controversia a livello nazionale, i crocifissi erano stati installati nelle aule di udienza al Palazzo di Giustizia. Una mozione del gennaio del 2022 arriva in aula, arriverà ora a giugno. Dispiace prendere atto, prendere che è suscitato delle polemiche. Il crocifisso è il simbolo delle nostre radici, della cultura cristiana, è il simbolo di pace, di giustizia, di fratellanza, quindi non capisco perché dovrebbe creare delle polemiche. Ad ogni modo la nostra, quella della Lega è una proposta, poi sarà il Consiglio Comunale a votarla, a demandare la mozione, a valutare se procederà oppure meno. Nessuno vuole imporre qualcosa ad altri, tant'è vero che la nostra è una proposta e vogliamo che sia condivisa dal Consiglio Comunale, poi valuteranno anche gli altri consiglieri comunali. Ricordiamoci che la nostra religione, la religione cattolica è l'unica che citata dalla Costituzione italiana, un motivo ci deve essere. Il crocifisso non ha mai fatto male a nessuno, anzi ha sempre rappresentato quella che è la pace e la fratellanza.